Teramani abbastanza rispettosi delle misure di contenimento previste dal decreto Conte durante queste feste pasquali. Abbastanza, perché ci sono stati diversi furbetti, quelli che non hanno saputo rinunciare al pranzo insieme agli amici o quelli che non hanno proprio resistito a farsi una passeggiata lungo la spiaggia o addirittura il primo bagno della stagione. I dati diffusi dalla prefettura di Teramo sull'attività delle forze dell'ordine sulle strade dell'intera provincia nella sola giornata di Pasquetta parlano di 87 multe effettuate su 897 verifiche, controllati anche 226 esercizi commerciali, quattro dei quali sono stati multati. Teramo città, maglia bianca, con zero sanzioni, un capoluogo completamente deserto dove i cittadini hanno dimostrato una grandissima serietà nel rispettare le regole. Ad aiutare le forze dell'ordine questa volta ci sono stati anche i droni dei Vigili del Fuoco che hanno sorvolato soprattutto i comuni costieri. Controllo accurato per esempio a Silvi, a partire dal lungomare, per poi proseguire con i parchi giochi e con la frazione di Pianacce, per concludere con il centro storico di Silvi Alta. Il lavoro effettuato ha portato alla contestazione di quattro verbali a persone intente a passeggiare senza valido motivo. I droni hanno sorvolato anche Alba Adriatica e Tortoreto. Il litorale era deserto, scongiurati i rientri nelle doppie case e sono state fatte solo poche contravvenzioni. A Giulianova i casi più curiosi. Intanto un greggio di pecore che passeggiava indisturbato sulla statale Ottanta, il proprietario di un albergo-ristorante a Lido che aveva invitato degli amici a pranzo e un armatore che aveva preso il largo. Grazie a tutti.